Buongiorno ragazzi, vi ritrovate in questo nuovo video. Oggi iniziamo un po' a fare mente locale per avvicinarci a quella che sarà la partita con l'Inter a San Siro, domenica, che sarebbe bello vincere, sarebbe bello fare una bella prestazione, quantomeno, ma sarebbe ancora più bello vincerla, perché in questo momento qui alla Juventus serve una bella scossa, una bella botta di fiducia, di adrenalina, sarebbe importante. E noi non siamo messi bene, ma anche l'Inter ha diversi problemini da gestire, poi noi guardiamo sempre in casa nostra, che è la cosa principale, e per migliorare sempre, per arrivare a un livello continuativamente più elevato, non bisogna guardare gli altri, bisogna guardare soltanto noi. Intanto due notizie di ieri, Perin ha rinnovato il suo contratto fino al 2027, ne avevamo parlato, immaginavamo che potesse esserci l'annuncio, Perin ce l'aveva spoilerato in conferenza stampa pre-Juventus e Stoccarda, e poi Perin è stato pure il migliore in campo in quella partita, ha ricevuto il premio MVP ed è stato giustamente rinnovato dalla Juventus. Una bella fiducia riversata nei confronti di un portiere che è stato molto sottovalutato negli anni, e che in questo momento può forse anche immaginarsi più titolare di quanto non lo sia mai stato alla Juventus. Credo che tanto con Tiago Motta principalmente, che alterna sempre molto i portieri, ma a maggior ragione in questa stagione Perin possa giocare anche molte più partite del previsto di quanto potevamo immaginarci, ben consapevole del fatto che comunque Tiago Motta e i portieri li va a ruotare. Su Douglas Lewis invece buone notizie perché sono state escluse lesioni, quindi non dovrebbero esserci dei tempi di recupero biblici, però ovviamente il giocatore sarà indisponibile per la sfida con l'Inter. Prima non c'è McKennie ma c'è Douglas Lewis, poi torna McKennie ma si fa male a Douglas Lewis nel riscaldamento e poi Douglas Lewis non sarà disponibile per la partita successiva. Insomma, è un continuo tira-molla sui giocatori della Juventus. In questo momento le condizioni fisiche dei ragazzi non stanno aiutando, non so se è un discorso relativo alla preparazione, se è un discorso relativo alle tante partite, se è un discorso relativo banalmente al livello dei calciatori e a quelli che sono i problemi che possano venire fuori, però di una cosa siamo sicuri, veramente di una cosa siamo consapevoli e cioè che purtroppo in questo preciso istante la Juventus è priva di quelli che sono stati i colpi di mercato più impattanti e più importanti della sessione estiva. Perché i tre colpi maggiori, quelli dove sono stati spesi più soldi, sono Cobb Mainers, Douglas Lewis e Nico Gonzalez e tutti e tre sono indisponibili. Se aggiungiamo anche l'infortunio al crociato di Bremer, che è stato un altro di quei giocatori che è stato pagato tantissimo dalla Juventus e sono insieme a Vlaovic i cinque giocatori su cui la Juventus ha investito più soldi per il cartellino, capite bene che c'è soltanto Vlaovic disponibile oggi. Quindi tutte le volte che, perché ultimamente la discussione più impattante è sì però la Juventus ha fatto un mercato da 200 milioni, ricordiamoci anche che in questo momento questi giocatori non ci sono, ma soprattutto la Juventus non è che ha fatto un mercato da 200 milioni. E questa è stata una tematica, un argomento di discussione che ci siamo portati avanti tutta l'estate. Non fate questo errore, perché la Juventus ha speso quei soldi perché ha poi venduto dei calciatori, la Juventus ha speso quei soldi perché ha tolto degli ingaggi, la Juventus ha speso quei soldi perché ha risparmiato da altre parti. Sarebbe scorretto, disonesto e falso dire che la Juventus ha messo 200 milioni sul mercato e basta, quindi più 200 milioni, anzi meno 200 milioni delle casse a Juve per far mercato. Non è stato questo, ricordiamocelo bene che la Juventus ha fatto un mercato di autofinanziamento, la Juventus ha preso anche delle decisioni particolari, ha preso delle decisioni in controtendenza, ha preso delle decisioni rischiose, ha preso delle decisioni dolorose per riuscire a fare un determinato tipo di mercato. Quando si dice che la Juventus ha fatto un mercato da 200 milioni non si racconta il vero, perché si parla soltanto delle spese e non dei ricavi. E va preso in considerazione invece tutto quanto, perché se no si sta raccontando soltanto una parte di storia. Fatto sta che di quei 200 milioni che sono stati investiti, spesi, quello che volete, ma ovviamente poi il bilancio finale è differente, oggi i giocatori principali, quelli che sono stati più impattanti dal punto di vista dei cartellini, non ci sono. Non ci sono e Tiago Motta dovrà fare ovviamente necessità virtù, perché non è che se ti mancano questi calciatori allora non si può giocare a calcio. Questa cosa non esiste, questa cosa deve essere ovviamente allontanata dal pensiero e anche se con l'Inter andremo ad affrontare una gara molto complicata, dobbiamo fare con quelli che ci sono, perché comunque ci sono tanti giocatori forti, fortunatamente perché la Juve ha una rosa forte, fortunatamente la Juve ha una rosa interessante e fortunatamente Tiago Motta può contare su dei giocatori che comunque possano dirla loro. Però c'è un problema grosso, anzi due. Uno è la creazione delle occasioni da gol e di questo abbiamo già parlato, la Juventus secondo me oggi non è messa bene in campo e non è abbastanza veloce nel far circolare la palla per arrivare poi a creare delle occasioni da gol. E questo è un discorso che va fuori da, per me dovrebbe giocare a questi giocatori piuttosto che quello più spostato in avanti e quell'altro un po' più indietro. Però un altro problema importante, ha maggior ragione adesso che tre giocatori offensivi di cui è un esterno sono fuori, perché ecco Beners è un giocatore offensivo, Niko è un giocatore offensivo, lo stesso Douglas Lewis è un giocatore offensivo perché Tiago Motta lo vede anche in posizione più avanzata di campo. Ora che questi tre giocatori sono fuori bisogna inventarseli in un altro modo. La Juve ha pochi esterni? La risposta probabilmente è sì, a maggior ragione dopo non aver affondato il colpo relativo a Sancho, perché c'era Artur che non permetteva alla Juventus di fare un altro investimento. Sancho oggi sarebbe veramente oro colato per la Juve, ma non c'è e bisogna fare con quelli che ci sono, non bisogna piangere sull'atversato, bisogna semplicemente ragionare su quello che c'è. La Rosa non è stata costruita al 100%? Beh, probabilmente sì e probabilmente perché si pensava che Ildis potesse fare decisamente meglio nel ruolo di alla sinistra. E questo è il secondo problema, la posizione di Ildis. E qua invece possiamo lavorarci. Non è un discorso di allenamento in cui il ritmo deve crescere, perché il ritmo della Juventus oggi è troppo blando e il ritmo della Juve deve crescere. E quello è un discorso relativo agli allenamenti, passa dal lavoro quotidiano. Per il resto, appunto, possiamo metterci mano. Perché? Perché lo sviluppo della Juventus va alla fine ad essere un 3 più 2. La Juventus quando attacca, quando va a sviluppare l'assena offensiva, cerca di raggiungere la posizione di 3-2-5. I tre difensori centrali, i due mediani, i due esterni, due trequartisti e una punta. La Juventus è lenta a girare all'interno del contesto, del campo, è lenta a fare lo spostamento, a fare lo slittamento in campo, andare a prendere quelle posizioni. E allora io un'idea ce l'ho e ho un'idea da non amante della difesa 3, ma davvero di andare a giocare a 3. Andare a giocare 3-4-3, 3-4-2-1, chiamatelo come volete. Tiago Motta ha già utilizzato questo sistema in passato, lo ha fatto allo Spezia, poi da lì è passato alla difesa 4, è tornato al 4-3-3, 4-2-3-1. Perché? Perché si è trovato meglio. Semplicemente con i giocatori che aveva a disposizione, la difesa 4 è stata migliore. Col Bologna l'abbiamo visto praticamente sempre giocare con la difesa 4. Poi, attenzione, per un allenatore come Tiago Motta non è importante il modulo, non è importante il ruolo, quanto più lo spazio e l'interpretazione è dello stesso. I giocatori devono muoversi nello spazio, ma se oggi i giocatori non sono ancora in grado di muoversi nello spazio, io sono grande fan di metterli già lì, fargli capire quali che devono essere le posizioni fisse e poi farli muovere senza doverli stravolgere il mondo. Perché è vero che la Juve attacca con la difesa 3, perché stacca un difensore dalla linea 4, attacca 3 più 2, ok? Però difende sempre 4-4-2, o 4-2-3-1, che dir si voglia. Io personalmente sono fan di attaccare in un modo di difenderne lo stesso. Traduco. Difendo 4-2-3-1, attacco comunque 4-2-3-1. Ma questo non serve a niente. Il fatto che a me piaccia una cosa non deve assolutamente influenzare Tiago Motta e non può influenzare Tiago Motta. E se la Juventus funzionasse, non sarei nemmeno qui a proporvi questa cosa. Ma dato che oggi la Juventus non sta funzionando, ne ha dei problemi, e devono cercare di essere risolti, secondo me a partire dalla collocazione di Ildiz in campo, e da non amante della difesa 3 vi dico, se Tiago Motta crede che il modo giusto di attaccare sia quello, allora arriviamo già a essere schierati in campo in quel modo. Se non ci sono abbastanza esterni, e se Ildiz non può far l'ala, la risolviamo in questo modo, e quindi io vado a proporvi questa formazione, che è un 3-2, come potete vedere. I tre sono Gatti, Calulu e Cabal, più Fagioli e Locatelli. Può benissimo essere anche Turamo, Meccenni, al posto uno dei due mediani, non è un problema. Potete anche mettere Calulu a destra, Gatti centrale, anche questo non è un problema. Però mi piaceva questa idea, perché anche l'altro giorno con lo Stoccard abbiamo visto comunque Tiago Motta cercare di avere Cabal largo a sinistra e Weah largo a destra insieme a Cambiaso. E non ha funzionato benissimo sta cosa. Cambiaso però lo voleva largo. Lo voleva largo, con Weah invece che era nella posizione di Consei Sau. E allora vi dico, se Cambiaso lo voleva largo, e Cambiaso largo ci può stare, e lo può fare assolutamente, anche se è un giocatore che ama stringere, andare a palleggiare, ma lui può giocare largo. Perché non metterlo largo di principio a sinistra, insieme a Ildiz? E quindi la Juventus difenderebbe a 5, in questo modo. Potrebbe difendere anche a 4, non è un problema, potrebbe semplicemente mettere Cabal e Weah come terzini, Cambiaso e con Seisao come esterni, Locatelli, Fagioli, Ildiz come centrocampista, e Blaovic davanti. Non è quello il punto. La Juve può fare anche questo, lo può fare. Per questo ho messo Gatti sul centro-destra e Calulu in mezzo, perché se poi vieni giù con Weah, Gatti è a destra e Calulu è a sinistra, come abbiamo visto abitualmente da quando si è fatto male Bremer. Ma non è questo il punto. Per me la Juve può difendere anche 5-3-2. Non è un problema. Con Ildiz e con Seisao, che a turno vanno a dare una mano al centrocampo. Questo non può essere il problema. Però sono dell'idea che Ildiz in quella posizione possa essere molto più a suo agio con Cambiaso che va a dargli l'ampiezza e non sempre va a stringere, ma va a dargli l'ampiezza, perché c'è necessità di avere un aiuto a Ildiz in quella posizione. Ma soprattutto con la corsia di destra che con Weah e con Seisao potrebbe veramente fare un salto in avanti dal punto di vista qualitativo veramente importante. Perché Cambiaso e Ildiz potrebbero giocarla sulla tecnica da una parte. Con Seisao e Weah, invece, dal punto di vista dell'intensità e del dribbling. Mi piacerebbe vedere Cambiaso e Ildiz che fanno dei cambi di gioco da sinistra verso destra per andare a prendere l'ampiezza di Weah oppure il taglio di con Seisao. Quella cosa potrebbe funzionare. Noi Weah e con Seisao insieme non li abbiamo ancora mai visti. Un alternativo all'altro, tant'è che l'altra se esce con Seisao ed entra Weah. Questa, secondo me, potrebbe essere una buona soluzione. Ripeto, non sono amante della difesa 3 e quindi un po' mi costa provare a proporre la difesa 3. Ma, visti gli infortuni e visti i giocatori di esposizione, visti i problemi della Juve, un tentativo lo farei. Lo farei già contro l'Inter? Ecco, questa è la tematica più importante da discutere. Perché sicuramente provare una soluzione tattica differente, una partita del genere, è un po' da matti. non prendiamoci in giro, bisogna essere dei folli. Allo stesso tempo vi dico, però, andare a giocare quasi a specchio con l'Inter potrebbe essere interessante. Perché l'Inter gioca con la difesa 3, tu qui giocheresti con la difesa 3, avresti la possibilità, davvero, di andare uomo su uomo con i giocatori dell'Inter. E quindi, andare a semplificare un pochettino quella che può essere la fase difensiva. Traduco, c'è Di Marco sulla sinistra? È Di Guea. C'è Dumfries sulla destra? È Di Cambiaso. A centrocampo ci sono i tre giocatori dell'Inter, Locatelli, i Fagioli e Hildiz, probabilmente, che va a dare una mano e va a marcare quello che sarà il centrocampista titolare che andrà a fare il regista. Non so se c'è la Noglu, se ce la farà, oppure se ci sarà un altro, ma quella è l'idea. Potrebbe funzionare. Secondo me potrebbe funzionare molto bene anche perché in fase di sviluppo d'azione dell'Inter da dietro e l'Inter sviluppa spesso, quasi sempre, l'azione da dietro partendo dai centrali, Hildiz, con Cesao e Vlaovic avrebbero la possibilità di andare dritti uomo su uomo sui giocatori che fanno partire l'azione per l'Inter. Quindi questa potrebbe secondo me essere una buona soluzione, un test sicuramente importante. L'Inter sarebbe anche, ripeto, qualcosa di folle, però bisogna anche cercare di essere siccome coraggiosi in questi momenti e mettersi in discussione, mettere in discussione un'idea che sembrava poter funzionare ma che sulla carta sta dando tanti problemi perché è vero che la Juve comunque è in una buona posizione in Serie A, una buona posizione in Champions, eccetera, eccetera, però se dobbiamo venirci a raccontare la storiella che va tutto bene, che non ci sono problemi nella Juventus, siccome non stiamo facendo il bene della Juventus e per cercare invece di arrivare a fare il bene della Juventus dobbiamo dire ok, il progetto è partito, è un progetto in cui bisogna avere pazienza, però bisogna anche prendere qualcosa in più soprattutto al punto dello sviluppo offensivo e questa soluzione secondo me potrebbe aiutare e non poco la Juve. Voglio sapere la vostra considerazione qui sotto nei commenti perché adesso inizia quella parte in cui è un po' più soggettivo il discorso nel senso che fino a Juve Stoccarda secondo me era giusto dire ok, ci sediamo, guardiamo cosa in mente Tiago Motta e vediamo come può migliorare questa roba. Io credo che Juve Stoccarda sia stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e non per il risultato, attenzione, non per la sconfitta perché probabilmente anche in caso di 0-0 o magari di vittoria della Juventus con un episodio nel finale saremmo stati qui a fare questo tipo di processo alla Juventus perché qui non si sta facendo un processo ai risultati ma si sta facendo un processo allo sviluppo offensivo e questo è un problema noto e ben chiaro già da prima di Juve Stoccarda. Juve Stoccarda diventa una partita importante per analisi per un motivo perché per la prima volta la Juve è stata la squadra dominata e non è la squadra che ha dominato e questo deve essere per forza un campanello d'allarme sommato alla posizione di Hildiz che non sta facendo la differenza in questo momento e alla difficoltà di creare occasioni da gol con continuità ecco che se una cosa è una coincidenza due indizi sono interessanti tre fanno una prova e quindi dobbiamo per forza di cose iniziare a ragionarci e qui entra in gioco il soggettivo quindi sono curioso di sapere la vostra nei commenti ciao ragazzi ciao ragazzi grazie a tutti